Il nome di Gesù Cristo della Santa Vergine Maria chiedi perdono! Il nome di Gesù Cristo della Santa Vergine Maria chiedi perdono! Chi sta in vaga? Chi sta in vaga? Passato! Passato! Guarda che tavolo si è fatti! Oh oh oh! E cavolo! Fascisti no! Fascisti! Bergogliati! Bergogliati! Bergoglia! Bergoglia! Nel fascisti c'è lato! Nel fascisti c'è lato! Fascisti! No! Bergoglia! Bergoglia! Un sindaco! Un sindaco! Come si permette? Come si permette? Come si permette? Bergogliati! Come si permette? Bergoglia! Fascisti ci ha chiamato! Ma po' cavolo a chiamarci i fascisti! Ma po' cavolo a chiamarci i fascisti! Scorso! Ma dai! Ma dai! Fascisti! Stai! Avete lato calano tossico povera! Bergogliateli! Bergogliateli! Avete lato calano tossica! Bergogliateli! Fascisti ci danno! I fascisti ci danno! Santini! 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 Il nome di Gesù è della karışistica! Non dimentate godine di che siamo razzisti e fascisti! Ma poi cavolo! Andate le conseguenze no! Chi ha i propri conseguenze? Ma allora se sta cosa dire siamo fascisti, vero? Sì, 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 passatevi a casa vostra, portatevi a casa vostra, sono una fila femmina pure io, adesso ce l'ho due.